Lorenzo Cacciatori, nuovo acquisto del Sant'Angelo, in realtà si tratta di un ritorno. Sei felice di essere tornato in rosso nero dopo un paio di stagioni? Sono felicissimo e ringrazio la società per avermi permesso di tornare qua. Le aspettative sono quelle di vincere il campionato e spero di dare una mano alla squadra e di giocare più partite possibili, ma alla fine deciderà sempre il mister.